Volevo capire qual è stata la difficoltà più grande e se c'è stato un momento in cui hai pensato che poteva scapparvi di mano. Grazie. Le difficoltà le incontri quando inizia una nuova strada, non sai quali ostacoli trovi davanti. Abbiamo trovato dei concorrenti agguerriti che ci hanno dato del filo da torcere anche per alcuni nostri piccoli demeriti. Abbiamo tenuto aperto così a lungo questo campionato. Sicuramente la Lazio, l'Inter e anche la Sessa Atalanta ci hanno dato del filo da torcere. Ci hanno spinto ad andare a raschiare tutto da tutti quei valori che hanno i giocatori di questa rosa. Per quello è stato difficile. In più, la Juventus con la scelta di Sarri ha voluto mettere a disposizione una nuova filosofia che era quella del gioco. Abbiamo cercato di mettere in pratica quelle che erano le richieste del mister. Abbiamo unito a quelle che sono le sue idee, la nostra voglia di arrivare in fondo all'obiettivo principale che era lo scudetto. Nove volte di fila sono qualcosa di straordinario, di unico, di irripetibile. Abbiamo fatto la storia di questa grande società e del calcio a livello mondiale. Ciao Leo, Marco Renditti, signora mia, calcio nuose. Senti, tu che hai vinto tantissimo nella Juventus, sei un veterano, sai molto bene quali sono gli equilibri delle squadre quando vincono. Dopo tante vittorie, tu pensi che ci possano essere ancora molti stimoli, non solo da parte tua, ma anche da quelli che hanno fatto parte in questa Juve da tanti anni? Sono fortunato perché faccio parte di un gruppo che lo ha dimostrato sul campo. Nonostante i tanti campioni che hanno vinto tanto sia a livello di squadra che a livello personale, ogni giorno entro alla continassa e c'è tutta la squadra pronta a migliorarsi, a fare qualcosa per scendere in campo e dare il proprio massimo, ogni singolo giocatore. Ovvio che adesso c'è da recuperare le energie perché questo breve torneo iniziato con il 22 giugno, se non sbaglio, ci ha tolto tanto a livello fisico e a livello mentale. Quindi godiamoci questa vittoria, festeggiamola perché è giusto festeggiarla dopo un anno così particolare. ricarichiamo le pile e poi ci giocheremo questo ottavo di ritorno contro Lione perché la nostra volontà è andare a Lisbona a giocarci questa Champions League inedita. Buonasera Leonardo, Sergio Baldini, Tutto Sport, complimenti. Grazie. Ecco, proprio riguardo alla Champions, quanto è importante essere riusciti a chiudere con due giornate d'anticipo il campionato, poter staccare un attimo la spina, recuperare energie mentali prima del Lione? Era fondamentale chiudere il discorso stasera perché, come detto, adesso abbiamo la possibilità qualche giorno di riposare, di ricaricare le batterie, di fare degli allenamenti, cosa che non ci è riuscito negli ultimi 40 giorni e mettere la testa e le gambe su quella che sarà una partita aperta che vogliamo portare a casa per, come detto, andare a Lisbona a disputare i quarti di finale. Buonasera Leonardo, Vassallo alla Voce di Genova. Oggi la Juventus non ha preso gol, non succedeva da un po', quanto è importante? E personalmente per te hai ricevuto diverse critiche nelle ultime uscite, quanto conta esserti riconfermato campione d'Italia? Guarda, stasera è stato importante arrivare all'obiettivo. Ovvio che poi non aver preso gol e aver fatto una buona fase difensiva è qualcosa in più. Le critiche fanno parte del gioco. Sono stato bersagliato dopo la Lazio per un rigore che non ha condizionato minimamente il risultato finale, che erano i tre punti. C'è chi nel momento ha cancellato tutti gli altri interventi della partita per andare a punzecchiare, ma per me da sempre nella carriera le critiche sono stato stimole di crescita, per mettere la testa sul campo e continuare a migliorarmi. Ho 33 anni e ho una voglia infinita di migliorare e di continuare a vincere con questa maglia. Leonardo, buonasera. Luca Bianchina, Gazzetta dello Sport. Complimenti. Tu che l'hai vissuti quasi tutti, ci dici una cosa per cui ricorderai questo scudetto a differenza degli altri e poi magari nella stessa risposta o a parte il primo davvero capitano, anche se Giorgio comunque formalmente lo è, ma lo sei stato tu tutto l'anno. Quindi cosa ha significato e cosa significherà magari alzare quella coppa? Il capitano di questa squadra è il rimane Giorgio. Purtroppo quest'anno l'abbiamo avuto veramente poco e per noi è stata una sfortuna. Giorgio è un leader in campo e fuori. Io ho portato la fascia al braccio cercando di essere me stesso e di aiutare la squadra nei momenti critici. Spero di esserci riuscito. Siamo arrivati ad ottenere il nono risultato, il nono scudetto di fila e non è facile. Non è facile. Ovvio che questo è, come detto, il più bello perché c'era chi ci ha creduto di poterci togliere il tricolore dal petto. C'è chi addirittura voleva fare un campionato a parte, essendo arrivato a chissà quanti punti di distacco. È stato un anno particolare per il blocco dei tre mesi, ma noi abbiamo continuato a lavorare, a crederci, a spronarci l'uno con l'altro, ad essere squadra. Ci siamo riuniti più di una volta dicendo che quello che aveva in mano era troppo grosso per farcelo sfuggire. Eravamo solo noi padroni del nostro destino. E così è stato. Abbiamo portato a casa il nono scudetto di fila, il trentottesimo per la Juventus. La dedicava a tutti i nostri tifosi che non hanno potuto gioire con noi dentro allo stadio. e sicuramente l'avranno fatto da fuori e per chi nei mesi difficili di questa pandemia purtroppo ci ha lasciato, ma avrà gioito in alto nel cielo. Grazie a tutti. Lascio la parola a Gabriele e a Mr. Sarri. Grazie. Buonasera a tutti. Cominciamo con... Buonasera a tutti.